Lavorava al memoriale della tragedia del Ponte Morandi a Genova quando lui stesso ha perso la vita. È morto così Marco Ricci, operaio di 39 anni. L'uomo, originario di Roma ma da tempo residente a Sansepolcro, è precipitato nel vuoto mentre operava nel cantiere in un volo da 10 metri d'altezza. In base ai primi accertamenti stava compiendo dei passi all'indietro con un peso quando la trave sulla quale stava camminando, che ricopriva il vuoto dentro il vano, ha ceduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli ispettori dell'Asla. L'operaio sarebbe andato in arrastocardia come i medici sono riusciti a rianimarlo e lo hanno portato in codice rosso all'ospedale San Martino, dove però è deceduto dopo alcune ore. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora a carico di ignoti. Ci sarà da stabilire eventuali responsabilità tra gestori di appalti e subappalti dei lavori nel cantiere. Marco Ricci, dipendente di una carpenteria di Sansepolcro, stava lavorando alla costruzione della nuova ludoteca del futuro Parco del Ponte, il progetto di riqualificazione del quartiere Certosa con il memoriale a ricordo della tragedia che il 14 agosto 2018 stroncò la vita a 43 persone per il crollo del Morandi, tra cui anche due giovani aretini, Carlos e Stella. La notizia della morte di Marco Ricci ha ben presto lasciato sgomenta l'intera comunità biturgenze.